Guardate che è una stagione senza sci, con gli altri che sciano, è un suicidio, è finita. Perché questa fase è vissuta e l'abbiamo vissuta come, non essendo più una novità, è stata vissuta un po' più, come si può dire, l'abbiamo vissuta in maniera più familiare, no? È qualcosa che già conosciamo, non c'è più l'inquietudine dell'untore, no? Vi ricordate che i primi periodi, sì, spesso si utilizzava questo nome, no? Questo è l'untore, no? Il manzoniano a memoria. No, abbiamo più padronanza sicuramente clinica del Covid, però voglio sempre ricordarvi che comunque siamo davanti a un'infezione importante. Da zona gialla è inevitabile che qualche preoccupazione ce l'abbiamo, è quella dell'effetto boomerang, no? È zona gialla, dicono che il Veneto comunque sta gestendo bene, a questo punto prendiamone atto, è un problema degli ospedali, facciamo festa. Non funziona così. Detto questo, vi dico che questa mattina abbiamo avuto una intensa mattinata di videoconferenze, quelle Covid l'abbiamo avuto con i colleghi presidenti di Regione, per il quale ci ha parlato di un bel po' di partita del Covid, ma mi interessa dire che con forza abbiamo voluto comunque approvare linee guida per l'apertura del piste. Che non vuol dire che abbiamo segnato un gol. Ricordo che c'è questo paventato rinnovo del DPCM del 3 dicembre, nel quale sembra si vogliono bloccare appunto le piste da sci e quindi le attività degli sporti invernali. Noi comunque le linee guida le abbiamo fatte. Quindi sia le linee guida, sia un'analisi seria che dovremmo fare assieme al governo, che dovrà partire dalla sicurezza e della salute dei cittadini, ma ce n'è poi anche un'altra di sicurezza e della salute che è quella dell'economia, che poi ricade sulla salute dei cittadini. E poi il tema comunque è che ci sia una condivisione europea trasfrontaliera rispetto a delle misure che non rischiano di essere un suicidio per la nostra economia. Guardate che è una stagione senza sci, con gli altri che sciano e lo suicidio è finita.